Se siete amanti della salsa di soia sappiate che se ingerita in quantità eccessive potrebbe addirittura ridurvi in coma all'ospedale. Almeno questo è quello che è accaduto ad un 19enne della Virginia che in seguito ad una scommessa persa con gli amici è stato costretto a bere un'intera confezione di salsa di soia. Dopo meno di un minuto il ragazzo ha accusato dei sintomi anomali tra cui una sudorazione eccessiva e del tremolio. Sul posto sono arrivati i soccorsi che hanno constatato di come il sale avesse invaso il suo sangue ed hanno immediatamente provveduto ad iniettargli per endovena più di 6 litri di soluzione fisiologica composta da acqua e zucchero. I medici hanno spiegato che ad essere quasi letale è stata la quantità di sale ingerita pari a circa 160 grammi, dosi che possono facilmente provocare una forma di ipernatriemia cioè l'elevata presenza di sodio all'interno del sangue. Il ragazzo è rimasto in coma per circa 4 giorni ed i medici hanno comunicato alla stampa americana che è ormai fuori pericolo. Secondo lo staff medico l'americano è una delle poche persone sopravvissute all'ingestione di una quantità di sale così elevata. Se vi capita quindi di mangiare al ristorante giapponese fate attenzione a quanta soia versate su sushi e sashimi. Potrebbe infatti portarvi dritti all'ospedale. Grazie.